Da un certo punto di vista li capisco i miei haters, perché quando vedo della gente che vende della roba di digitale, con questi video orribili, queste pubblicità indegne, gente imbarazzante che li guardi, diciamo a questo tipo, ma che ne sa, di cosa sta parlando? L'evento, il coso, il web marketing. E se tu sei dentro a questo mondo qua, lo vedi se uno è vero o se uno è finto. E per cui hai un sacco di gente improvvisata che si butta e cerca di arraffare, cerca di surfare l'onda, cerca di vendere i propri prodotti, i propri servizi, le proprie robe. Ed è una tristezza clamorosa. E allora capisco i miei haters quando vedono dei video dove c'è uno che parla con questo format ormai straabusato da tutti, con le fasce nere, le scritte, sette cose per fare lo cutonanto, queste minchiate qua. E se tu non entri nel merito dei contenuti e non approfondisci e non valuti una persona, sa o non sa, è vera o è finta, dopo un po' sembrano tutti uguali. Uno vedo il mio video e dice, ah, questo qui sarà uno di quei cialtroni lì. A volte ho quella stessa sensazione quando vedo sta gentaglia. Banditi, cioè ci sono proprio dei banditi in giro. In tanti settori e anche nel digitale. La riflessione era soltanto fermarsi sempre, approfondire, di non farsi intortare, di verificare i fatti, le dice una cosa, sei vero oppure no. Verifiche di base. E l'altro aspetto importante, quando vedi della gente in giro, che comunica, pensare è una persona per bene sì o no. Un test che un amico ad otto giorno mi diceva, ti sentiresti a tuo agio a mandarla a cena con tua figlia o con tuo figlio? Quando vedete tutte queste promozioni, di tutte queste robe qua, di qualunque settore, qualunque argomento, uno quella domanda dovrebbe farsela. E in molti casi la risposta è no. Persone per bene. Dai, tutto qua. Slashers for books. Motori. Tutto in attività. Slashers abbiamo fatto la prima diretta. Facciamo un mese di contenuti. Abbiamo fatto la prima diretta. Un'ora mi sono divertito. 1.400 persone. È incredibile, no, che ti colleghi e fai una diretta. Un tempo serviva la Fly, servivano degli strumenti pazzeschi. Per farli in diretta. E oggi invece, pah, schisci un bottone e sei in diretta. E per un mese faremo una diretta ogni settimana, poi un sacco di contenuti. Una cosa carina che stiamo facendo lì, lo segnalo, è l'uso del bot su Messenger. Compili il modulo per ricevere informazioni su quello che facciamo. Al posto di fare la solita paginetta, col solito form, lo facciamo direttamente in Messenger. È una cosa abbastanza nuova. Dovrebbe dare un maggior tasso di risposta e rendere più facile la comunicazione, aumentare il tasso di apertura delle comunicazioni, che poi è il grande problema, perché spesso tu hai della gente che si registra, poi tanto non apre le tue mail, e allora è un casino. Come chatbot usiamo ManyChat, però c'è anche ChatFuel, insomma, potete provarne un po'. Con un amico che fa il game designer, videogame, ho provato per bene tutto il tema realtà virtuale, con gli occhialoni, tutta una serie di simulazioni. Mi ha molto colpito. È facile ingannare i sensi. È facile ingannare il cervello. A un certo punto, in una di queste simulazioni, ero sospeso per aria, e io non sono bravissimo con le vertigini. Ho detto, cacchio, qua cado, insomma, una sensazione forte. In un attimo sei immerso, e tu sei ingannato, e credi veramente di essere lì. Allora, postiamoci avanti in un po' di anni. Visore, immagine HD perfetta, uguale a quella reale. L'audio, te lo simulo, perché ti metto qua un orecchino, una roba, e l'audio lo senti uguale. L'olfatto, ti metto un cerottino, una roba, e senti l'olfatto come nella tua vita, reale. Tatto, ti metto qua, non so, un ring, un guantino, qualcosa, e dite, uguale, metto reale. A quel punto, come fai a distinguere se vivi in una realtà simulata o meno? Che poi è l'argomento, viviamo in una simulazione, sì o no? Ci sono mille teorie a riguardo. Quando si arriva lì, poi, come fai a stabilire dove è meglio vivere? Saranno problemi etici, legali, sarà un bordello, mica da ridere. Ma si va in questa direzione qua. Get ready for it. Ne avevamo già parlato questa domanda, ma me la rifaccio, a me stesso, e magari qualcuno gli torna utile. Per capire esattamente che cosa non funziona nel tuo processo di vendita, una domanda bellissima da fare ai propri clienti è, mi ricordo chi l'aveva formulato, dove l'ho letta, però mi è tornata molto utile e la uso spesso adesso. L'ho fatto ad esempio a un po' di abbonati a 4books. Che cosa ti aveva quasi fermato dal comprare? Perché in questo modo tu capisci da uno che poi ha comprato quali erano gli ostacoli principali che vedeva. Uno strumentino al volo consigliato, KEEP, di Google, scritto KEP, prendere note, segnarsi, le to-to-list, no, che funziona. Altro giorno uno dei miei figli ha detto, ma tu come stile fai? Tu fai lo YouTuber. No, non faccio lo YouTuber, Belin, ne faccio l'imprenditore, no? Però, in generale, incredibile come sia una figura vista come, ma sì, è un cazzo che fai video in sostanza, che non è il massimo della visione da avere come padre. Allora ragionavo su quanto, come al solito, ci sia pregiudizio in questo e anch'io ho avuto un sacco di pregiudizi rispetto magari ai ragazzi che facevano i video così, del gameplay. Quando ho iniziato a farli, però, mi sono reso conto del mazzo che ti fai per fare dei video. Non è facile, ecco, ci sono varie cose. È ovvio che se sei uno che lavora in miniera fai molta più fatica, ma rispetto a un lavoro diciamo da scrivania, è una fatica enorme far video. Ripresi, notaggio è una fatica infernale. Quando vedi uno che fa magari uno, due, tre video al giorno, cioè è una fatica, cioè è un mestiere, ecco, a tutti gli effetti. Non è soltanto da fare il contenuto, devi fare un contenuto interessante, coinvolgere una community di persone, che non è facile, pochi ci riescono, e poi in generale, sai, nel momento in cui fai dei video, tu stai pronto a pigliare insulti e critiche ogni giorno. E se sei un ragazzino, non è così semplice avere 15 anni, 16 anni, andare online e pigliare gente che passa e ti insulta brutalmente, così solo perché gli stai antipatico e vedi la tua faccia e dici suve un c***o e via giù, botte di insulti di qualunque tipo. Non è una vita semplicissima come molti immagino che sia. Più rispetto per gli YouTube, ecco, quello che ho imparato facendo video è che serve molto più rispetto, molto più rispetto per i vari YouTuber o chi fa video, perché non è semplice, ecco. Se pensi di essere più bravo tu, se pensi che sia semplice, prova, prova un mesetto e poi mi racconti come è andata.